Abbiamo quindi tracciato su di un foglio bidimensionale le linee della nostra imbarcazione abbiamo quindi riportato le forme tridimensionali della nostra barca su di un piano tracciando appunto il nostro piano di costruzione Ora sul nostro piano di costruzione abbiamo tracciato sul piano delle sessioni longitudinali il piano della linea del pelo dell'acqua e abbiamo poi tracciato il nostro profilo Abbiamo quindi ipotizzato che la nostra barca abbia esattamente questo galleggiamento Ma come facciamo in modo che i volumi della nostra barca, le forme della nostra barca e poi il suo peso siano tali da farla affondare all'interno dell'acqua proprio della quantità che noi vogliamo cioè della quantità che poi è riportata sul nostro piano di costruzione dove abbiamo tracciato appunto il piano del pelo dell'acqua in una posizione ben definita Per fare in modo che la nostra imbarcazione abbia il galleggiamento che noi desideriamo dobbiamo già nelle prime fasi del disegno andare ad effettuare dei calcoli di base di idrostatica In particolare dovremmo andare a valutare il volume della parte immersa della nostra imbarcazione e quindi il dislocamento Prima di fare ciò introduciamo brevemente il principio di Archimede Immaginiamo di avere una barca su di una gru e di abbassarla piano piano lentamente all'interno dell'acqua Ok io adesso in questo momento ho toccato con la barca il pelo dell'acqua ma la barca naturalmente non rimane diciamo sopra il pelo dell'acqua come se fosse una parete rigida e inizia ad affondare La domanda è quanto affonderà? Quando è che la barca si fermerà di affondare? Troverà il suo equilibrio? Quindi il suo piano di galleggiamento? Vedete che se io aggiungo un peso quindi se premo con il dito la barca continuerà ad affondare fino a quando non trovo un altro equilibrio Ok tolgo il peso la barca riemerge un tantino al di fuori dell'acqua ritrovando un nuovo equilibrio Ma questo equilibrio è tra che cosa? L'equilibrio è naturalmente tra due forze Abbiamo da una parte la forza peso che dipende dal peso dell'imbarcazione da quello che abbiamo sopra e quindi questa freccia diciamo sarà per il momento la ipotizziamo costante il peso della barca che noi andiamo a immergire in acqua è quello Dall'altro lato che forza avremmo? Ora se noi immaginiamo di calare la nostra barca fino ad arrivare al pelo dell'acqua la barca continuerà dalla gru a voler scendere cioè è la forza peso che comanda e vuol far cadere la barca la vuole far affondare Nel momento in cui raggiungiamo il pelo dell'acqua si staura una forza della stessa direzione della forza peso ma verso contrario quindi si staura una piccola forza che è proprio la nostra forza di Archimede nel momento in cui noi iniziamo a toccare con la nostra imbarcazione il pelo dell'acqua naturalmente in questa situazione la forza di Archimede è piccolina e non riesce a equilibrare la forza peso quindi noi caliamo la nostra imbarcazione e lei continuerà ad immergersi fino a raggiungere una certa immersione in cui la forza di Archimede sarà cresciuta ma non ancora sufficiente ad equilibrare la forza peso la nostra barca quindi quando noi andiamo giù col braccio della gru vorrà continuerà ad affondare fino a raggiungere un galleggiamento che se abbiamo fatto i calcoli in maniera giusta e ci è andata abbiamo avuto anche un po' di fortuna sarà la linea che noi abbiamo disegnato sul nostro piano di costruzione quindi il galleggiamento di progetto quindi fino a questa posizione in cui la forza di Archimede sarà esattamente uguale in modulo stessa direzione ma verso contrario della forza peso in questa situazione si staura un equilibrio tra la forza peso e la forza di Archimede e la nostra imbarcazione galleggerà noi continueremo ad andare giù col braccio della gru ma la barca non continua ad affondare se modizziamo come abbiamo visto prima di aggiungere un peso ok saliamo in 5 a bordo sulla nostra imbarcazione la forza peso non sarà più questa ma aumenterà e noi simboleggiamo questo aumento della forza peso con l'aumento della lunghezza di questo vettore questa sarà la nostra nuova forza peso in questa situazione la forza di Archimede che si è staurata prima non sarà più sufficiente ad equilibrare la forza peso e quindi la nostra barca continuerà ad affondare affonderà aumenterà il suo volume immerso e la forza di Archimede è esattamente proporzionale al volume che noi immergiamo all'interno del liquido quindi all'interno dell'acqua e continuerà ad affondare fino a quando non avremmo raggiunto un nuovo galleggiamento in cui la forza di Archimede sarà di nuovo aumentata e avrà raggiunto in modulo il valore della forza peso ma verso contrario quindi si sarà raggiunto un nuovo equilibrio tra la forza peso e la forza di Archimede ora definiamo la forza di Archimede la forza di Archimede è quella forza che subisce un corpo immerso in un liquido diretta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di liquido spostato il peso che noi dobbiamo calcolare è il peso del volume di acqua spostata dalla nostra imbarcazione il peso sarà uguale ad un volume per la densità dell'acqua volume dell'opera viva della nostra imbarcazione quindi non inventiamoci cose strane sulla densità non mettiamo volume dell'opera viva per la densità del legno del ferro del materiale di cui è fatta la barca o della densità media dell'imbarcazione quello che noi vogliamo calcolare per la forza di archimede è il peso del volume di liquido spostato che è uguale al volume dell'opera viva della nostra barca per la densità dell'acqua questo ci permetterà di calcolare la forza di archimede che dovrà essere uguale al peso della nostra imbarcazione per avere equilibrio in altri termini una volta che noi abbiamo disegnato il piano di costruzione ma sin dalle prime battute del disegno del nostro piano di costruzione dobbiamo verificare che il volume che noi stiamo disegnando sotto la barca la sua opera viva sia congruo con il peso che la barca che abbiamo ipotizzato che la barca avrà in navigazione faccio un esempio se noi a monte del disegno delle linee abbiamo stabilito un po' le specifiche dell'imbarcazione quindi lunghezza larghezza peso quindi abbiamo immaginato che la barca in navigazione avrà un peso tra scafo attrezzatura equipaggio acqua viveri e quello che ci vogliamo mettere sopra avrà un peso totale di 1000 kg noi dobbiamo andare a verificare che l'opera viva che stiamo disegnando abbia un volume tale che generi una forza di Archimede pari a 1000 kg perché altrimenti la linea di galleggiamento quindi il piano del pelo dell'acqua che noi abbiamo disegnato sul piano di costruzione non sarà quello che noi abbiamo disegnato se i due valori non coincidono quindi se se il volume che noi stiamo disegnando genera una spinta di Archimede di 1000 kg e la nostra imbarcazione avrà un peso in navigazione totale di 1000 kg quella sarà la linea di galleggiamento quella che abbiamo disegnato sarà la linea di galleggiamento effettiva reale della nostra imbarcazione altrimenti no risulta quindi fondamentale dalla dalla tracciatura delle prime linee andare a verificare che noi stiamo tracciando linee congrue in questo senso e per verificare che noi stiamo tracciando linee congrue dobbiamo andare ad effettuare calcoli di aree e volumi sul nostro piano di costruzione per fare questo ci viene incontro la la teoria dell'integrazione grafica che vedremo nel prossimo video a l'integrazione a